Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per una perdita di carico e un veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Chiusi Chianciano e Ceprano, in A12 tra Pisacentro e Cole Salvetti e in FIPILI tra Firenze e Santa Croce sull'Arno e tra la diramazione per Pisa e Pisacentro. In FIPILI rallentamenti per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per le statali sulla Aurelia carreggiata chiusa per lavori tra Venturina e Follonica Nord in direzione Roma. Per i traghetti la corsa da Piombino a cavo delle 18.10 è stata annullata per avverse condizioni meteo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!